Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questionale di verifici suve mi è benvenzato oggi oggi faremo la partita in singola foto grazie grazie Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Via Via Fuggi a pompa Mostro santa il supporto è anche realizzato per le matizze mi rende forte eccolo eccolo ecco qui ecco qua no no dai dai così la prima c'è uno c'è uno c'è un altro dai che c'è un altro quello lì due anzi altri due lì c'è anche tre vabbè 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 c'è la c'è c'è da fino a qui il paradiso paradiso ci sono leggendari bellissimo adesso vado da lui che sono di stupro doni star con gli occhi l'altro l'altro no 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 i miei amici li vogliono l'ho chiesa oh yeah oh yeah io ai 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 aia facciamo un altro in squadra stavolta quando la partita la faccia di squadre sempre col contro lei della playstation 5 Quagga una finestra non meglio di niente la rapa vada foresta vai corretta frignante tutta bene l'acqua tutto per me i miei amici vanno ragazzi andate dove volete io voglio ciao sei geloso è il suo amico ma voi se volete giocare non avete visto che ci sarebbe una piccola in game che avete visto di giocare a tutti i giochi provatevi il link in descrizione da matti e da crisi guardatevi sbagliati atturriamo la colambula che mi so che ne hai niscuio atturriamo la colambula Sì, stai scendendo? Non è che tanto danno che c'ho Dai, vai La pompa La pompa Sì allora Non ti libero Sì adesso Stai dai cavolo i miei amici stanno sottotitoli tranquilli ma come faccio a giocare con il joystick della playstation 5 senza fare così questo lo posso detto non faccio nulla il controller vedete sapete vedere lo so già che il mio amico non mi viene grazie amico tu sei il mio amico numero uno scappa vai 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 ah non c'è un amico è morto non mi va rosa avvita vale ha via 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 , via via. a me leggerdo Stupido! Mi hai ancora detto a forza, non lo so! Che ne vengono che ci lascia andare vola qui? No, no! Ma c'è un po' di tiro per ci metterlo! Non la capisco! Che ha parlato? Qui, qui, qui! A cosa? No! Cosa ti faccio? Cosa ti faccio? Cosa ti faccio? Che ne sape Ha? He morto! Ya! Escapa, 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 escapa corzo, escapa corzo. Escapa! Escapa, 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 escapa! No lo caño! È un po' diablo! No lo caño! No lo caño! No lo caño! No lo caño! ragazzi comunque questa è la partita sul pc e non è andata neanche troppo c'è sto da PlayStation la prima partita con la grafica nativa del computer con il corso che è andato a un po' a pulire sono scommeggiato